Il sindaco rappresenta una comunità, rappresenta in questo momento la città di Arezzo, in tutta la sua composizione e non si può permettere assolutamente di fare un out-out dicendo che il sottosegretario Boschi non può venire in città. Mi sembra veramente una cosa pretestuosa e che forse alzare la polemica sulle banche serve a non far vedere quali sono le magagne di questa amministrazione. Continua a far discutere però questa questione banche e bancheturia soprattutto ad Arezzo? Sì, la questione di bancheturia farà discutere ma io richiamo di nuovo alla responsabilità. C'è una commissione parlamentare, ci sono indagini anche delle magistrature, noi abbiamo sempre detto che chi ha sbagliato è giusto che venga punito e noi non vogliamo fare processi alle intenzioni ma è anche chiaro che se il sindaco chiama in causa il ministro Boschi per la questione banche eturia devo dire che il sindaco dovrebbe guardare tra chi l'ha sostenuto in campagna elettorale e anche tra qualcuno dei membri del Consiglio Comunale che ora magari non è più presente in Consiglio perché loro al pari di altri dirigenti sono stati i protagonisti della vicenda di Banche Eturia e del livello a cui è arrivata. Grazie.